Il Cosenza con disinvoltura piega anche la lupa Castelli Romani e giunge al settimo risultato utile consecutivo, che significa peraltro quarto posto in classifica in compagnia del Benevento. È stata una gara agevole per i lupi che hanno colpito una volta per tempo i laziali, prima alla ventitresimo con Arreghini tornato al gol e poi alla settantatresimo con l'ottimo Criacon, ancora protagonista di splendidi inserimenti offensivi, sicuramente come hanno affermato obiettivamente entrambi i tecnici. L'atteggiamento rinunciatario degli ospiti ha facilitato non poco il compito della squadra di Roselli, che ha ringraziato e colpito quando ha dovuto. 2-0 secco quindi frutto di una buona intensità di gara e di una discreta concretezza sotto porta e dopo aver fatto fuori la lupa, i lupi si inseriscono nelle posizioni di vertice nelle quali proveranno a stare più tempo possibile. Domenica saranno già chiamati a resistere agli assalti di un Lecce che sognerà il sorpasso.